Ciao a tutti ragazzi, oggi non ci sono notizie fresche di mercato da commentare, probabilmente usciranno nel corso della giornata, quindi saremo qui tranquilli a riproporre un nuovo contenuto per affrontare tutte le discussioni che sicuramente scaturiranno da questo 9 giugno 2022 e credo proprio che parlare della data odierna sul calendario sia molto importante perché dato che non ci sono notizie fresche di mercato è meglio fermarsi un secondo e fare un ragionamento perché in questi giorni sto leggendo un po' di tutto e allora andiamo con ordine, cerchiamo di affrontare gli argomenti più caldi della giornata e poi concludere con un macro ragionamento inerente proprio alla Juventus. Vorrei partire da Berardi, poi spero di non dover toccare più l'argomento perché mi è dispiaciuto ieri sera leggere un commento no, questa mattina, questa mattina leggere un commento di un ragazzo che mi diceva non capisco perché tu e tanti utenti della tua community stiate dipengendo Berardi come una vera e propria pippa quando in realtà i numeri sono dalla sua. Lungi da me definire Berardi pippa perché non lo penso assolutamente. Berardi anzi storicamente è sempre stato un calciatore che mi ha affascinato, calciatore che è sempre stato un mio fedelissimo a fantacalcio, un conto però di fantacalcio, un conto della Juve. Per la Juve invece mi sembrava adatto, lo avrei preso assolutamente ai tempi, qualche anno fa quando la Juventus era in possesso della metà del cartellino di Domenico Berardi, quando il ragazzo era ancora giovane e quando era esploso al Sassuolo e aveva poi l'opportunità di iniziare una nuova avventura, magari proprio la Juventus che aveva appunto metà del cartellino in compartecipazione e lì si poteva fare, inserire all'interno di una Juventus diversa anche rispetto a quella di oggi in cui le cose funzionavano e nella quale Berardi poteva lasciarsi trascinare. Io sono assolutamente convinto che Berardi all'interno di una squadra completa possa essere un giocatore di livello, c'è la squadra ovviamente di livello, perché è un ricambio che sa giocare a calcio. Ragazzi Domenico Berardi sa giocare a calcio. Il mio unico dubbio su Domenico Berardi, anzi gli unici due dubbi su Domenico Berardi. Uno è legato purtroppo alle figure che andrebbe a sostituire, perché qualcuno anche qua mi ha detto non è vero che Berardi sarebbe il sostituto di Ribala, il sostituto di Ribala è Pogba, sono d'accordo a livello di stipendio, nel senso esce uno entro l'altro, ma in campo la porzione che va a ricoprire Berardi, il ruolo di Berardi, è quello di giocatore offensivo in grado di creare con una giocata una possibile occasione offensiva per la Juventus e quindi il posto che l'anno scorso occupava Paolo Di Bala. Ovviamente anche il sostituto, tra virgolette, passatemi il termine, di Angel Di Maria, perché è il giocatore che va a sostituire proprio il fideo nelle trattative e nelle idee della Juventus. E un conto ragazzi è sostituire Di Bala con Di Maria, un conto è sostituire con Berardi, io qua lo ripeterò all'infinito, non mi stancherò mai di dirlo, questa è una cosa che mi tarro dentro. Poi c'è il primo risultato a fare i gol di Berardi e le giocate di Berardi in caso d'arrivo alla Juve. Sulla carta non lo considero però un acquisto di così livello, così tanto di livello per la Juve di oggi, che ha bisogno di prendere un trascinatore, un leader tecnico, cosa che secondo me Berardi nella Juventus non può essere, o almeno in una Juventus non di alto livello, in una Juventus che non lotta per lo scudetto, che non è certa di andare avanti in Europa, allora sì, certo, Berardi può essere un giocatore importante. Nella Juventus che vuole provare a rientrare nel ciclo vincente, ecco, forse qualche dubbio su Berardi ce l'ho, e ce l'ho anche dal punto di vista economico, perché ragazzi bisogna capire quanto lo valuta il sassuolo, perché si parla di 30-40 milioni di euro. Io spero che la Juve non dispenda 30-40 milioni di euro, non riesco a vedere il motivo per cui investire 30-40 milioni di euro per un giocatore di quasi 30 anni, di 28 anni ad agosto, non ce lo vedo, ma questa è la mia opinione, e rimane tale, non voglio assolutamente dipingere Berardi come pippa, tanto perché non lo penso, penso che sia un calciatore forte, ma che non sia un calciatore in grado di dare quello che serve oggi alla Juventus. In seconda battuta, Paolo Di Bala-Inter, ieri abbiamo parlato, abbiamo detto che Organtun era a Milano per trattare con l'Inter, che le parti si sono avvicinate, oggi impariamo che Di Bala ha preso una settimana di tempo per dare una risposta definitiva all'Inter, che molto probabilmente sarà sì. Ora, oggi non voglio parlarne di questa cosa, non voglio dirvi cosa ne penso, perché lo faremo quando ci sarà ufficialità, dato che appunto abbiamo detto che la fumata bianca potrebbe essere vicina, probabilmente sarà tra una settimana. Intanto vi dico ovviamente il sentimento dell'illusione, dell'illusione c'è, è tanta, perché un conto è, lo dici, Di Bala va all'Inter, un conto è il procuratore che va nella sede, che trattano e che tra una settimana sai la risposta, ed è che è probabile che ci vada, quindi molto probabilmente Di Bala sarà un calciatore dell'Inter. non me la sento oggi, perché semplicemente non c'è ancora ufficialità e quindi faccio un po' fatica a tirar fuori qualcosa di più rispetto a delusioni e tristezza, faccio un po' fatica, quindi ne parleremo quando ci sarà ufficialità e sarà tra poco, quindi contatti i giorni sul calendario. E proprio di giorni sul calendario, era questo l'ultimo tassello del puzzle, ragazzi bisogna parlare del mercato, ma non del mercato per i nomi, non del mercato per i ruoli, no no, bisogna parlare del mercato, perché io sto continuando a leggere persone che mi scrivono, o comunque che scrivono anche sui social, sì però troppo negativo, troppa negatività, il mercato deve ancora iniziare e siamo già qua che facciamo la critica, che lo giudichiamo, intanto il mercato si giudica alla fine del mercato, non in base ai nomi, non in base ai rumor, non in base ai se, ai ma, il mercato si giudica l'ultimo giorno alla chiusura. E l'anno scorso, il mercato estivo della Juve, personalmente, l'ho etichettato con 4,5. E 4,5 per me è un voto pessimo, pessimo! Tante persone, no, dovevi dare 0, dovevi dare 2, dovevi dare 3, per me 4,5 è un bruttissimo voto! Quando perdevo 4,5 a scuola non ero proprio contento, lo dico subito, neanche quando prendevo 6. Se proprio devo essere sincero, il 6 è quella roba insipida del vabbè, 6 lì lì, ma 4,5 è proprio brutto. E l'anno scorso siamo arrivati con l'acqua alla gola, chiave calcio mercato, perché eravamo impegnati in un'unica trattativa, quella per Locatelli, per rimanere fregati da quella di Ronaldo, per poi non affrontare la preparazione con la squadra completa, per poi iniziare in malo modo la stagione. Quest'anno sarà ancora più complicato, perché hai meno tempo per fare mercato, perché è vero che il mercato inizia tra un mese, ma tra un mese inizia pure il ritiro, e quindi la preparazione estiva, e quindi ufficialmente la stagione, perché non dimentichiamoci mai che la preparazione è già stagione. Quello che fai in quei giorni lì si ripercuoterà poi nelle prime giornate di campionato. E ve lo ricordate come è iniziato l'anno scorso il campionato? Vi ricordate che nelle prime 4 partite abbiamo fatto 2 punti e per colpa di cui l'inizio lì abbiamo navigato a vista fino a dicembre, gennaio, dove abbiamo dovuto spendere 100 milioni sul mercato per provare a rincorrere la zona Champions League, neanche la zona Scudetto. E forse, con qualche punto in più, con un inizio, un pelo meglio rispetto a quello che abbiamo fatto, si poteva addirittura provare a rientrare in lotta a Scudetto. Forse. Non lo sapremo mai. Perché la Juventus ufficialmente è arrivata a quarta, ma è arrivata a quarta lasciando per strada all'inizio e alla fine. Perché dopo che abbia raggiunto la matematica qualificazione della Champions proprio non ce n'è fregato niente. E questa è una cosa secondo me brutta, molto brutta. Ma inizio e fine siamo stati nulli. Non sembravamo nemmeno una squadra di calcio. E allora no. Se abbiamo imparato qualcosa dagli errori, dobbiamo farlo vedere. E non possiamo permetterci di dire, vabbè il mercato inizia il primo luglio. Sì il mercato inizia il primo luglio perché arrivano i calciatori, ma tu li puoi già tesserare. Ragazzi ci sono dei calciatori, Pogba e Di Maria, che sono parametri zero, dal primo di gennaio li puoi tesserare, li puoi annunciare. Siamo al 9 di giugno. È inutile questo falso mito del sì il mercato inizia il primo luglio. Sì il mercato inizia il primo luglio, ma ora ci sono le trattative. Ora devi trattare, ora devi convincere i calciatori, ora devi farti un'idea, devi portare a termine delle operazioni. Ragazzi l'Inter sta prendendo Di Bala. Cioè l'anno scorso Di Bala è stato il capocannoniere della Juventus. Va a parametro zero all'Inter, che è due anni che arriva sopra di noi. Tre anni fa è arrivata sotto di noi un punto. Potrebbe riprendere Lukaku. Il Milan ha vinto lo scudetto e sta facendo mercato. Botman, Renato Sanchez, Origi, forse Zaniolo. Ragazzi noi dobbiamo rincorrere queste squadre. Noi siamo arrivati dietro queste squadre per due anni di fila. È inutile continuare a dire, ma il mercato inizia il primo luglio, ma poi valutiamo. Sì, ma se le trattative non ci sono oggi. Cioè l'unica trattativa davvero avviata è Pogba, che anche qua manca l'ufficialità. Perché di cose chiuse c'è stato il rinnovo di Perini e il rinnovo di Desciglio. Non abbiamo annunciato il rinnovo di Rugani, che il rinnovo di Desciglio non è ancora ufficiale ma dovrebbe esserci la firma. Non abbiamo annunciato il rinnovo di Delit ancora. Quello non c'è stato. Il rinnovo di Quadrado è scattato automaticamente e anche qua c'è stato dell'attrito. Morata non si sa se rimane alla Juve oppure no. Ken non si sa se lo devi riscattare oppure no. Rabiot e Artur sono dispersi, non si sa cosa succede. Un giocatore tuo, Nicolò Fagioli, non sai nemmeno se rimarrà. Se lo rinnoverai oppure no. Di Bala, Bernardeschi, Chiellini usciti a parametro zero. Oggi non si sa ancora chi prenderà i loro posti all'interno della Juve. Il mercato inizia il primo luglio, ma la Juve deve fare 7, 8, 9 operazioni di mercato. Forse, se contiamo anche le uscite, la squadra B, l'Under 23, tocchiamo le 12, 13, 14, 15 operazioni di mercato per una squadra di calcio. Sono tantissime ragazzi. Se prendi Pogba hai 12 centrocampisti in rosa. Non hai un sostituto di Chiellini, il tuo terzo centrale di difesa oggi è Rugani. Ma di cosa stiamo parlando? Il mercato inizierà il primo luglio, ma chi se ne frega? La Juventus se non butta delle basi solide oggi. Si ritrova a trattare gli ultimi giorni del mercato per prendere a Cervi dalla Lazio pagandolo 10 milioni di euro? Ma lo sappiamo sta roba o no? Sono d'accordo che il mercato inizia il primo luglio. Sono d'accordo di non valutare il calcio mercato in base ai rumor e a quello che ancora non è accaduto. Ma se la Juventus non si muove davvero per garantire almeno 2-3 colpi andare al 5 di luglio quando inizierà la preparazione al 4 luglio, non mi ricordo la data esatta, si è rovinati. Se tutto va bene si è rovinati. Perché non puoi lavorare sempre, tutte le volte, tutti gli anni, con una squadra incompleta. Quando gli altri lavorano con la squadra completa. Poi alla fine dice ma come si è arrivato? Ah ma sono arrivati sopra quegli altri. Eh che palle. Dai vediamo l'anno prossimo sul mercato. L'anno prossimo chi si svincola? Neymar. Parliamo di Neymar per la fascia sinistra. Poi cosa succede? Che torna Bernardeschi? Ragazzi queste cose non vanno bene. Poi se ce le vogliamo fare andare bene è un conto. Se vogliamo dire che Berardi ha fatto i suoi numeri fantastici da solo, nessun problema. Lo diciamo. Sono io il primo a dirlo, li ha fatti. Però poi non dobbiamo stupirci se alla fine dell'anno festeggiano tutti quegli altri e noi siamo lì alle carci le ferite. E ci interroghiamo come mai una volta si vince oggi e non si vince più? Eh perché una volta c'era Tevez, una volta c'era Pirlo, c'era Vidal, c'era Pogba e adesso? Adesso voleva Andi Maria prendiamo Berardi. E adesso? E adesso abbiamo tra un mese che inizia il ritiro e ci manca metà squadra. Non sono cose che possono andarci bene. Almeno ci possono andar bene e poi si accetta tutto quello che viene. Non lo so, io oggi come oggi sono pessimista negativo, io sono ottimista per natura, partendo da questo presupposto. Ad oggi ho un'influenza negativa legata al mercato della Juve. Perché mi sento molto indietro per il momento storico in cui siamo. Poi magari ribadisco, queste sono le mie sensazioni in base alle notizie che arrivano. Magari la Juventus sulla scrivania ha un plic così di carte, già firmate, abbiamo preso Pogba, abbiamo preso Di Maria, abbiamo preso Chi Volete Voi e ci hanno già posto. Abbiamo preso Costi, abbiamo preso Milinko Vissavi, abbiamo preso Coulibaly, abbiamo preso De Paul, quello che volete voi. Magari li abbiamo già presi tutti e io questo video. Però in base alle notizie che ci passano, in base a quelle che sono le indiscrezioni di mercato, in base anche all'ufficialità che ci sono state la Juve. Fino ad adesso c'è il rinnovo di Perini, il rinnovo di Quadrado con clausola automatica. Il non rinnovo di Bernardeschi, il non rinnovo di Dybala e l'addio di Chiellini. Noi oggi abbiamo cinque ufficialità e al 9 giugno secondo me questo è veramente poco. Tra l'altro Bernardeschi che quanto pare andrà a giocare a Napoli, quindi Dybala all'Inter e Bernardeschi al Napoli sono proprio, hanno scelto alcune delle nostre rivali storiche degli ultimi anni. Vabbè, ragazzi, vediamo cosa succede però. Secondo me siamo molto indietro. Io vorrei vedere delle ufficialità.